ciao a tutti ragazzi sono alessandro dopo il vlog pazzo che avevo fatto riguardo a vodafone ho deciso di farvi un video di configurazione appunto riguardante vodafone e la vodafone station revolution ma di fatto molti di voi si chiederanno ok alessandro ma che cosa vuoi configurare praticamente oggi andiamo a fare una configurazione pulita di cosa dell'avm 7490 il frixbox 7490 in cascata alla vodafone station revolution una configurazione pulita dal punto di vista tecnico che vi permetterà di utilizzare tutti i servizi senza nessun tipo di problema cosa gaming vpn wireless tutto quello che volete senza nessun tipo di problema allora a me non resta che mandare la sigla e farvi vedere questo tipo di configurazione sigla ok ragazzi allora cosa ci serve per effettuare questo tipo di configurazione allora come prima cosa non dovete collegare il 7490 alla vodafone station revolution ma dobbiamo necessariamente prima configurare la vodafone station revolution e poi andare a configurare il frixbox i cavetti e cavettini cavi ethernet come vanno configurati dopo aver configurato la vodafone station revolution dovrete mettere un cavo ethernet solo che va dal da una delle quattro porte ethernet della vodafone station revolution nella porta 1 del frixbox avm 7490 ok andiamo con la configurazione ragazzi ok ragazzi adesso siamo qui per configurare la vodafone station revolution allora come vi dicevo adesso il frixbox è soltanto alimentato senza che niente vi sia collegato ok noi siamo collegati normalmente alla vodafone station come sempre abbiamo internet dobbiamo solo andare a configurare questa vodafone station ora non guardate se apparirà la scritta frixbox all'interno dei collegamenti di vodafone voi seguite le indicazioni questo che ho scritto adesso è l'indirizzo ip per accedere a vodafone station una volta effettuato l'accesso dobbiamo andare dove in avanzate qui vedrete tutti i dispositivi collegati dovete andare in avanzate e fare cosa dovete fare una cosa molto semplice dovete abilitare il nat statico host verso un indirizzo ip qualsiasi che non sia la vodafone station perché sennò non verrebbe accettato mettete 1.3 successivamente questo potete disabilitarlo abilitarlo se di solito raggiungete siti che non riuscire non riuscite di solito a raggiungere con vodafone disabilitatelo perché questo ogni tanto crea dei problemi per esempio di accesso ai siti torrent e quant'altro fate salva e da questo istante la vodafone station revolution non vi darà più internet ok ma non vi preoccupate ora cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a lavorare all'interno del freexbox e configurarlo ad hoc prima di tutto vedete che nella vodafone station revolution una volta che voi avete abilitato il nat static la wireless viene spenta tutti i dispositivi probabilmente non li troverete più ma non importa il telefono sì e all'interno per esempio delle impostazioni avanzate le porte non le potrete più configurare ok ma non vi preoccupate adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo fare all'interno del freexbox ok ragazzi adesso vedete che io ho l'accesso al 74 90 voi cosa dovete fare con vodafone station revolution non avrete più internet ora dovete collegare il pc che avete utilizzato per configurare vodafone station revolution un minuto fa direttamente via cavo o in wifi al freexbox 74 90 questo vi pregiudicherà chiaramente la connessione internet quindi dovete collegarvi al freexbox se avete internet non avete fatto i collegamenti corretti non dovete avere internet perché il freexbox avevamo detto che non è collegato a vodafone station revolution è collegato a nulla di conseguenza se voi vi collegate al wifi del freexbox o via cavo ethernet non avere non avrete internet successivamente dobbiamo accedere alla pagina di configurazione del freexbox l'indirizzo ip del freexbox di solito è 192.168.179.1 io vabbè ho 188 ma potrebbe essere anche 190 come 200 se non lo sapete andate qui andate in cmd fate un ip config e vi viene fuori l'indirizzo ip gateway predefinito che è quello del freexbox dovete essere connessi soltanto al freexbox successivamente mettete il nuovo utente password e fate registrazione una volta entrati qui all'interno dobbiamo andare a configurare internet allora andate in internet ma probabilmente voi vedrete un menu che è più scarno di questo qui sotto avete la modalità avanzata se vedete modalità semplice cliccate ci sopra e diventerà modalità avanzata successivamente andate in internet poi andate in dati accesso qui dovete selezionare accesso disponibile via lan collegate la presa lan 1 del freexbox con un cavo di rete alla vodafone station revolution questo vi dice ma non fatelo fate applica vi darà una serie di errori voi non vi preoccupate eventualmente lo rifate dopo e una volta fatto ciò il freexbox è configurato in maniera corretta no attenzione perché dovete andare praticamente a vedere in monitor online che indirizzo ip è presente qui ora vedete che l'indirizzo ip è 1.3 ok avete collegato il freexbox non a lavora su station revolution come diceva il freexbox tramite il cavo ethernet qui vi da un indirizzo tutto a posto andate ma non riuscite a navigare non è un problema dovete vedere se questo indirizzo ip combacia con quello che avevate inserito in nat static della vodafone station revolution ora se siete collegati al freexbox riuscirete ad accedere anche alla vodafone station revolution se qui ci fosse stato 5 e qui ci fosse stato 3 le cose devono combaciare altrimenti non avrete la navigazione dopo aver fatto questo non dovete fare più niente ok ragazzi insomma avete visto il tutorial non è proprio difficile poter collegare un router in cascata la vodafone station revolution disabilitare qualsiasi cosa dalla vodafone station revolution e far funzionare in modalità al 100 per cento il router il tutorial diciamo che è un po lungo però credo che sia adatto a tutti io in questo caso ho fatto il tutorial sul 7490 di avm però vabbè potete poi collegarci qualsiasi router io in realtà vi devo dare una notizia che mi ha lasciato un po dubbioso ho provato molti router compreso il c3002 di tipi link il quale non so per quale assurdo motivo non riesco a farci funzionare la mia ip camera foscam quindi forse ragazzi questo per dirvi che probabilmente non tutti i router sono uguali è vero che spendere tanto alle volte non ha senso però se i soldi sono spesi su un'azienda tedesca di solito nel 90 per cento dei casi c'è un ottimo ritorno di affidabilità almeno con questo sicuramente non è mia intenzione sminuire tipi link o qualsiasi altro tipo di brand perché in realtà ho provato anche dei link e avevano problemi minori però insomma non erano poi così buoni il mio intento è quello di farvi capire ci sono dei problemi legati non soltanto a vodafone station revolution ma anche a quello che andate a mettere davanti quindi se voi mettete un router e non riuscite a utilizzarlo probabilmente non è colpa di vodafone ma è colpa del router che andrete ad applicare davanti quindi occhio io sto utilizzando questo tipo di configurazione da veramente tanto tempo ormai si parla di un anno più o meno no quasi un anno a febbraio e non ho mai avuto nessun tipo di problema quindi se la vostra domanda che mi volete fare sotto nei commenti è ma se compro il 74 di avm e ho vodafone avrò ancora problemi beh la mia risposta è no sinceramente gli ho risolti tutti non ho problemi di vpn non ho problemi di gaming online non ho problemi di nulla l'ip camera funziona insomma meglio di così non c'è niente allora io vi lascio e niente vi invito a iscrivervi al canale commentate questo video condividetelo con più persone possibili e niente al prossimo video ciao dalle salta corde e da vm perone ragazzi